Eugenia di York, nona nella linea di successione al trono inglese, pensate che si è sposata con Jack Brooksbank, un uomo di 32 anni di età. Si tratta del secondo royal wedding, del secondo matrimonio royal, tra virgolette, dell'anno, ma sarebbe il meno atteso e il meno spettacolare. A sei mesi dalle nozze che hanno visto protagonisti Harry d'Inghilterra e Meghan Markle, si è celebrato questo matrimonio tra la donna in questione, di 28 anni di età, e Jack Brooksbank, di 32 anni. Emozione totale nella cappella di St. George, del castello di Windsor, dove la principessa Eugenia, figlia del principe Andrea di Sarah Ferguson, ha detto sì a Jack Brooksbank. Nel secondo matrimonio reale dell'anno, dopo quello tra Harry d'Inghilterra e Meghan Markle. Una giornata indimenticabile, fastosa, piena di emozioni, piena di fascino, ma soprattutto piena di invitati, che si sono letteralmente appassionati a seguire questa coppia, che si è formata da coppia da poco tempo e che ha visto marito e moglie, moglie e marito, dire il sì davanti all'altare. Un saluto, grazie, video termina qua, iscrivetevi, commentate, felicitazioni a Eugenie e all'amato marito Jack, e auguri a figli maschi.